È fantastico come a noi abbiano dato comunque 750 minuti di recupero contro il Sassuolo. All'Apoli danno 0 nel primo tempo, 3 nel secondo perché stava vincendo, perfetto. Però adesso vorrei vedere, insomma, vedete, i fazzoletti sono finiti. I fazzoletti sono finiti perché avete pianto, vi siete asciugati le lacrime e di fatto piangere e fotte, è servito a piangere perché oggi è stata data un'espulsione ridicola a Rogero. Sul 2-0, intanto mancano 5 secondi ma è finita la partita. Sul 2-0 per il Napoli, un'espulsione ridicola che comunque il Sassuolo ha avuto le sue buone occasioni, solo che contro di noi Bobacar entra, è finita la partita, intanto entra e in mezzo a Bono Cichellini segna di testa. Invece oggi di piatto, meglio di un rigore, gli era tirata addosso perché adesso tutti diranno grande Ospina, ho visto tre tiri del Sassuolo a tu per tu col portiere, tutti centrali addosso al portiere. Quindi bravo Ospina magari a stare fermo, però di fatto non è che... Cioè, sono stati più scemi i giocatori del Sassuolo perché anche ieri, ad esempio, la Juventus, Comandzukic, ok, Scufetta ha fatto due buone parate su Manzukic e su Ronaldo, però di fatto per me sono di più le colpe di Manzukic e Ronaldo rispetto alla bravura, insomma, ai meriti di Scufetta. Stessa cosa oggi. Comunque la partita, insomma, si è decisa. Per carità il Napoli alla fine l'ha tenuta sotto controllo, però sai, se va su... Anche su 1-0 il Sassuolo comunque ha avuto le sue occasioni, non sfruttate. Vaffanculo. No, comunque... Anche oggi c'è stata questa espulsione dopo la piagnina che hanno fatto dopo l'espulsione giusta di Mario Rui. Poi altra cosa, dato che stanno inquadrando Insigne, no? Che ha fatto gol 2-0. Lì, solo per quell'azione Berardi è da 4. Se voi guardate l'azione del gol di Insigne, che è bravo, che fa un tiro a giro, per carità, però sappiamo le sue qualità. E in Serie A se tu con 5 metri di porta, eh sì, scusate, con 5 metri di spazio, hai quelle qualità lì, è normale che tu la butti dentro, perché sennò non saresti in Serie A. Però Berardi sta fermo a guardare chi gliel'ha passata Insigne. E poi, insomma, ha fatto gol. Vabbè, poi l'1-0 non l'ho visto in diretta, ho iniziato a vedere la partita al decimo, no, scuola del quindicesimo, il primo tempo, una cosa del genere. Però, va bene, è così, insomma. Io comunque continuo a ribadire, anche guardando questa partita che non ho tanto gufato. Certo, se avesse non vinto il Napoli sarebbe stato meglio, però sicuramente quest'anno, ancora di più rispetto agli anni passati, quello che temo di più è la squadra che temo di più è la Juventus stessa, perché abbiamo una squadra fortissima, i cari di concentrazione io temo moltissimo, e l'abbiamo dimostrato contro lo stesso Napoli. Se tu entri in campo in una maniera che... con la quale non dovresti entrare in campo, guarda Berardi, ecco Berardi qua, stavamo facendo rivedere il gol, Insigne riceve il pallone, Berardi cammina e guarda il pallone arrivare ad Insigne e non lo ostacola nemmeno. Comunque abbiamo visto che appunto la Juventus, se entra in campo deconcentrata e insomma non attenta, può andare in difficoltà contro chiunque, però se entra in campo con la giusta concentrazione e dà continuità alla partita, perché ricordiamoci anche oggi, ad esempio il Napoli, vittoria, meritate, quant'altro, però se una di quelle palle goal che ha avuto il Sassuolo va dentro, poi si riapre tutto, poi rischia anche di parigiarla, perché nella partita ci sono altre partite, capite? E questa cosa la dico anche sempre con la Juventus, perché poi dicono, eh ma sminuisce sempre le vittorie del Napoli, no? Voi guardate il video post partita della Juventus, quante volte critico la Juventus, guardateli, guardateli, perché è troppo facile dire attacchi il Napoli perché ti sta in culo il Napoli, io dico le cose come stanno guardando nelle partite di calcio, certo io spero che non vinca il Napoli, che non vinca la Roma, che non vinca l'Inter, che non... No, vabbè, il Milan non è che in questo momento me ne sbatti tanto le palle, anche perché ho i guain in uno dei due del fantacalci, quindi mi fa bene che segni, ecco, tutto lì è che vinca. Però, per quanto riguarda il resto, è così. Il Napoli ha giocato con 8, 7, 8 undicesimi diversi, ha fatto una buona partenza e poi è calato un po' nel secondo tempo, però era ovvio, infatti Ancelotti è stato bravo poi a mettere in signe Allan e Caleon, soprattutto in signe Allan, perché Diavara ha rischiato anche l'osso, pure lui. Quindi sicuramente bravo Ancelotti sotto questo aspetto. Berardi e Di Francesco non hanno giocato, cioè Berardi è entrato dopo e non è una perdita, chissà, non è un Ronaldo, ok? No, lo dico perché poi, però, oggi, secondo voi si parlerà di scansuolo, perché, fatalità, nella giornata in cui il Napoli mette 7 undicesimi diversi rispetto alla partita con Liverpool, tu tieni fuori Berardi di Francesco. Forse è successo con noi, infatti Berardi contro noi ha giocato, ha fatto cagare. Boateng, tra l'altro, Boateng, secondo me, deve tornare a giocare a centrocampista. Prima punta fa letteralmente cagare contro le squadre come Juventus e Napoli. È lento, è macchinoso, è lento. Vabbè, comunque, a parte questo, oggi si parlerà di scansuolo, secondo voi? Io non credo. Gli riecheranno il culo, gli diranno grande a Napoli. Anche così si vincono le partite, perché quando la Juventus le vince così, che non mette mai la stessa formazione da 7 anni, praticamente, prova bene così e non gioca bene, non gioca di qua, non gioca di là. Oggi abbiamo visto che Napoli, non mettendo tutta la formazione completa che siamo abituati a vedere, ha avuto delle difficoltà anche sulla costruzione del gioco. Però oggi diranno, si vincono anche così i campionati, le partite, quindi grande Napoli, vittoria a grande squadra. Forse è successa la Juventus. Vittoria sì, ma partita noiosa, gioco solito, noioso, Juventus che non gioca bene. Vabbè, ragazzi, questo è il quanto, vi auguro, buona serata a tutti, sempre fino alla fine forza Juventus. E l'incoerenza, ragazzi, è veramente bellissima, bellissima.